Piacere Mara, minacciava pioggia, passavo di qua. Può dare un'occhiata ai miei pneumatici? Certo, al mio lavoro. A proposito, piacere, branco. Battistrada un po' consumato e pressione di una gomma un po' scarica. Già, l'anteriore sinistro. Ah però, complimenti. Ma che... è lei il vero esperto, no? Su questo ci può scommettere. Lo dice anche il nome, Pneus Expert. Lo vede qui? Expert. Venga con me. Vede questo marchio? È Uniroyal. Per me da esperto è la prima scelta. Gamma ricca, versatile, affidabile e soprattutto... Un campione sul bagnato. Uniroyal è un fantastico pneumatico da pioggia. Eh, attenzione, non è un pneumatico da pioggia. Uniroyal è il pneumatico pioggia. Beh, su questo non ci piove. Allora, me le monta le Uniroyal sì o sì? Volo, prima che inizia a piovere. Buona pioggia a tutti! Uniroyal, il pneumatico pioggia.